Michelle Hunziker è stata la protagonista di un party glamour organizzato a Milano per festeggiare i suoi 40 anni. Le foto della festa sono finite sui social, pubblicate dai presenti e dai famosi invitati all'evento. Bellissima in abito lungo bianco e con i capelli biondi sciolti sulle spalle, la festeggiata ha ringraziato quanti sono intervenuti al party per renderle omaggio, tenendosi sempre vicino al marito Tommaso Trussardi che ha fatto un duro lavoro affinché la festa risultasse essere perfetta. Presente al party anche le amiche televisive di Michelle, Ilari Blasi e Silvia Toffanin. Le conduttrici Mediaset hanno partecipato alla festa per i 40 anni della Unzik rigorosamente senza compagni al seguito. Di Francesco Totti e per Silvio Berlusconi, infatti, non c'era traccia. Presente al party anche Belen Rodriguez, che ha voluto partecipare alla festa dell'amica nonostante cadesse nello stesso giorno in cui in tribunale si sono decisi i dettagli della sua separazione da Stefano De Martino. Ad accompagnarla il fidanzato Andrea Iannone che non l'ha mai persa di vista, nemmeno quando, al centro della sala insieme a Michelle, la Rodriguez non ha potuto fare a meno di attirare l'attenzione generale. La festa per i 40 anni di Michelle Unziker Al party della Unziker c'erano numerosissimi personaggi famosi. Ezio Greggio compare nel video in cui Michelle viene posta di fronte alla sua torta di compleanno e si appresta a spegnere le candeline. Sorridente, si presta l'applauso di Rito verso l'amica e collega di Striscia la notizia. Fotografati al party anche Alvin con la moglie Callie Wilkes, Alessandro Cattelan, Leveline Irene Cione e Ludovica Frasca e una serie di altri ospiti famosi. Nella parte della sala riservato agli amici di Aurora Ramazzotti, invece, non ha potuto fare a meno di attirare l'attenzione generale Sara Daniele, grande amica della figlia di Rose Michelle. Chi se ne frega.